Ehi, ciao. Hai fatto mezz'ora di ritardo. E lo so, mi dispiace. Mi dispiace il cazzo, il giudice se ne è andato. E io ho buttato una mattinata, avevo preso il permesso a scuola per accompagnarti. E lo so, il traffico, poi un bordello con mio fratello e ho fatto tardi. E io ti ho preso un altro appuntamento, domani alle 11. Ma è domani alle 11, non lo so però se riesco. Mi prendi per il culo, cazzo? No, no, non ti prendo per il culo, perché ho il check out di due americani domani. Fausto, ma tu anzi che mi diverto a venire qui, mi hai chiesto tu di accompagnarti. E no, lo so, però che è questa fretta? Che è questa fretta? Tu devi firmare un cazzo di foglio nel quale dichiare che i tuoi figli vengano affidati a tua madre. E lo so, ma questa cosa non la posso fare la settimana prossima. No, non la vuoi fare. E dai! Ma dai che hai Fausto! E no, sai che dai, cioè, venga pur fambo, quindi magari andiamoci a mangiare qualcosa e poi dopo vediamo... Va bene, l'ammetto. Ho fatto tardi di proposito. Ma quel cazzo di foglio non lo voglio firmare, perché mi fa sembrare che sia tutto finito. Io sono ancora qua, cazzo! Fausto, se tu mori prima di firmare quel foglio, i tuoi figli finiscono in una casa famiglia, ma te ne rendi conto? Ma io non sono molto! E quanto cazzo ancora pensi che ti resti da vivere? Scusa. Scusami. Scusami. No, hai ragione tu. Domani alle 11 filmiamo il foglio. Oh! Tranquillo. Oh! Tranquillo. Anzi, ma sai che facciamo? Ma ce ne andiamo a pranzo. Magari ci ubriamo e ci domandiamo nel pomeriggio. Ah? Che dici? Dai!